Incredibile doppietta nei 100 metri, rana femminili, Martina Carraro davanti ad Arianna Castiglioni, terza posizione per la finlandese Jenna Laucanen. Buon pomeriggio a tutti amici a passati di sport, ben ritrovati su Mollerino Sport Channel, io sono Alessandro e sono qui per parlarvi appunto degli europei di nuoto in Vasca Corta di Glasgow 2019, con la doppietta spettacolare di appunto Carraro Castiglioni nei 100 metri rana, dopo la doppietta sempre spettacolare nei 50 rana con Pilato e Carraro. Veramente una rana femminile europea dominata dall'Italia. Parte fortissimo l'irlandese Mona McSherry, la quale aveva il miglior tempo di ingresso in qualifica, ma poi la nostra appunto Martina Carraro, la vedete qui intervistata in questo momento, che appunto in progressione riesce a raggiungere e superare McSherry che va un po' in difficoltà nell'ultima vasca, va molto più piano e viene superata poi anche dalla Castiglioni e dalla Laucanen negli ultimissimi metri. Veramente una doppietta incredibile e arriva così il quarto oro e se non sbaglio la dodicesima medaglia, un'Italia veramente dominante in questi europei in vasca corta. Se non sbaglio siamo secondi nel medagliere alle spalle della Russia, ma con una medaglia in più abbiamo penso un argento in meno e due bronzi in più. Veramente un'Italia spettacolare. Comunque ragazzi direi che per questo mini video è tutto, vi invito a lasciare un commento dove mi piace iscrivervi, seguirci anche sulla nostra pagina di Instagram e noi ci vediamo a un prossimo video. Grazie a tutti.